Ben ritrovati. Questo tempo di vacanza è occasione per guardarci in faccia, con un po' di calma, un po' di pazienza, più di quella che mettiamo durante l'anno. Durante l'anno è chiaro, i tempi sono stretti, gli impegni sono tanti, gli appuntamenti altrettanto. Allora in queste settimane è bellissimo poter cogliere questo tempo e guardarci in faccia. Guardarci in faccia per quale motivo? Innanzitutto guardarci in faccia e chiederci ci siamo, noi ci siamo. Perché può darsi che durante l'anno, un po' per il lavoro, un po' per gli impegni, un po' per il nervosismo, la tensione, tante cose, ognuno si costruisce un proprio percorso. Allora è interessante in questo arco di vacanza il poter ritagliare in un piccolo spazio di tempo e chiederci ma ci siamo? Ci siamo come coppia? Ci siamo come famiglia? Stiamo percorrendo la stessa strada? E poi c'è anche un altro motivo che mi sembra abbastanza interessante, il chiederci a che punto siamo? A che punto siamo nel nostro essere coppia, famiglia? A che punto siamo nel nostro crescere a livello personale? A che punto siamo nel vivere le nostre responsabilità? ecco, io ritengo che la cosa più pericolosa è quella di dare per scontato troppe cose, mentre nella vita non si può dare scontato per nulla. Buona settimana a tutti!